Inarrestabili, questo è l'unico aggettivo possibile per questa squadra. Bentornati in questo nuovo video di FM 2022 con il nostro Taranto. Prima di cominciare un bel like, non so se non è in iscrizione per sopportare il canale. Andiamo subito e vediamo cosa accadrà in questo episodio. Siamo già nel calendario. Abbiamo Palermo, Campobasso e Avellino. Palermo che si trova al quarto posto, anzi al terzo, insieme al Catanzaro. L'Avellino al settimo posto, 16 punti. E il Campobasso a metà classifica. Quindi un episodio abbastanza difficile. Diciamo un crocevia per capire se effettivamente questo livello di difficoltà, tanto conclamato, è effettivamente troppo semplice. Oppure abbiamo una squadra davvero troppo, troppo forte. Vediamo come andremo a reagire in questo episodio. Siamo primi. Zero sconfitte, due pareggi e otto vittorie per un totale di 26 punti. Vediamo un attimo quanti gol abbiamo subito. Quattro gol. La miglior difesa dopo il Foggia che hanno subiti solo tre. Anzi no, anche il Palermo. Ecco, il Palermo ora ha subito solo due gol. Vediamo questa partita. Molto, molto interessante. Quindi torniamo con le nostre tre partite canoniche. Finalmente siamo tornati dalle vacanze. Siamo di nuovo al pieno delle nostre forze. Possiamo andare avanti. Vediamo cosa succede per questa partita che ritengo forse la più importante per capire se questo livello di difficoltà, tanto discusso, è davvero troppo semplice o meno. Formazione che va a scendere contro il Palermo al Renzo Barbera. La classica, quella che abbiamo visto anche nell'ultimo episodio. Non tocchiamo nulla, proprio niente, perché la squadra sta volando da sola. Perché? Sarebbe stupido cambiare, no? Gli direi. Se vinciamo tutte le partite 5-0, perché cambiare? E che so, cretino. Allora, Giacomo Filippi, l'allenatore dei Rosa Nero. Un mio derby personale. Mentre noi scendiamo con la classica. Allora, mano sui fianchi. Voglio una vittoria. Sì, allunghiamo la nostra striscia positiva. Sì, sì, tutti sono motivati, tutti sono felici. Attenzione. Bellissima cornice di pubblico. Alla Renzo Barbera. E si parte. Il primo tiro del Taranto. Ancora nessun tiro in porta. Dopo 10 minuti di gioco. Primo tiro in porta proprio per i Pugliesi. Adesso però c'è il Palermo. In possesso palla sull'out di sinistra. Sareniti potrebbe prenderla. Niente, non riesce. Fella per Soleri dall'Oglio. Il tiro dalla distanza. Molto bello, molto bello. Oh! Quasi so' contento che andiamo a perdere, guarda. Subito domandiamo di più. Gran bel tiro questo. Palermo in vantaggio. 1-0. Incoraggiamoli. Ferrara all'indietro per Antonino. Ben assai. Vediamo se va a impostare. Avanza il filtrante verso Sareniti che però non ci arriva. C'è dall'Oglio. Lo riesce a prendere. Giovinco. Giovinco col destro. Va a pareggiare Giuseppe. Giovinco. 1-1. Ok, ok, ok. Ci siamo. Un'occasione per parte. Due gol visti. Dall'Oglio qui non ci arriva. Bravissimo. Labriola ad anticipare. Sareniti poi che va a dare Giovinco. Che con un esterno destro buca. Proprio, ma solo. Va bene. 1-1. 5 tiri e 2. XG. In parità. Così come il possesso palla. 45-46. 47. 47. Bene. Spogliatoio. Allora. Lancia la bottiglia. Agite le braccia. La stampa vi ha elogiato molto ultimamente. Dimostrato a tutti di meritarvi quei complimenti. Domandiamo subito di più. Eh, forse un po' meglio il Taranto per quanto riguarda i numeri. Leggermente meglio. Tomossini il mostro. Va bene, vai. Fai il cambio. Facilli per Prelec. Va bene. Fai pure questo. Molto stanchi ovviamente i giocatori. Ok. Andiamo a fare anche gli altri cambi. Allora. Dunque. Abbiamo messo questi due. Poi Falcone per Giovinco. E poi Prelec per Saraniti. E Labriola potremmo provare per Ghisleni. Vai. 81-82. Mancano gli ultimi 5 minuti più recupero. Il Foggia sta vincendo. Porca me. Questi non perdono mai. Va bene. Aia. Stavo a D. Va bene. È finita. Stavo a D. Va bene. È finita. Attenzione. Il Palermo però è in possesso. Palla con Somma. Dall'Oio all'indietro per Massolo. Il lancio lunghissimo. Ancora preda dei giocatori rosa e nero con Accardi. Sull'auto di destra. Avanza Accardi. Il mezzo. Oh, Silva. Non ci arriva. Eccala. Eccala. Va bene. Ci sta. Ci sta. Una sconfitta che ci può stare. C'è un grande rimpianto perché è arrivata all'ultimo secondo. Ormai il pareggio sembrava preso. Comunque. Non era destino. Va bene. Va bene. Ragazzi. Comunque abbiamo giocato abbastanza bene. Una sconfitta a Palermo ci sta assolutamente. Anzi. Anzi. Va a confermare quello che dicevo. Che forse non è tanto il livello di difficoltà che è troppo semplice. Però abbiamo una squadra abbastanza forte per la categoria. E quindi questa sconfitta ci riporta un po' con i piedi per terra. Se vogliamo. Adesso il Foggia ci va ad agganciare ovviamente. 8-2-1 per entrambe le squadre. 26 punti. E il Palermo accorcia. Adesso dobbiamo guardarci le spalle anche dai Rosanero. Anche dal Catanzaro. Lo sapevamo. Il girone C della Serie C è davvero complicato. Davvero competitivo. Vediamo dove il Catania tra l'altro. I poveri disgraziati indossano. Beh. Ottavo posto. 17 punti. Vabbè dai. Neanche troppo male. Quindi adesso andiamo verso. La partita contro il Campobasso. Di tutt'altra caratura. Sono a metà classifica. Giochiamo anche in casa. Quindi potremmo tornare alla vittoria. E cercare di riallungare nuovamente dalle nostre inseguitrici. Prelec è infortunato purtroppo per 12 giorni. Tre settimane. Quindi lo togliamo dalla panchina. Possiamo però reinserire Italeng. Anche se non è al massimo della condizione fisica. Ma potrebbe dare una mano. E potrebbe andare a sostituire Saraniti. Mi avete detto di metterlo come punta centrale. Perché nel Taranto. Nella realtà gioca come punta centrale. Quindi sarà il sostituto per il momento di Saraniti. Allora siamo pronti. Confermiamo la formazione. Siamo carichi. Vogliamo tornare alla vittoria. Quindi. Agnallo staccato. Ah sì. Proprio al primo gol. Bene. Allora Mirko Cudini. L'allenatore del campo basso. Agite le braccia. Penso che dobbiamo mostrare. Che tutti gli elogi che ci hanno fatto. Sono stati meritati. Quindi. Iniziamo a dare anche un po' di. Di pepe. A questi giocatori. Non voglio che si vadano a. Rilassare. Il Foggia 0-0. Altri risultati. Ma queste sono finite. No. Stanno già giocando. Ma già 2-1. Non l'ho ben capito. Vabbè. Primo tiro del Taranto. Nulla succede dopo 20 minuti. Il Foggia passa in vantaggio. Si stanno giocando adesso. Andiamo a domandare di più. 4 tiri. Uno in porta. Ancora niente per il campo basso. Ma nulla accade. Ragazzi. Un'azione. La facciamo? Lancia la bottiglia. Non è sufficiente. Vorrei vedere almeno un'azione di gioco. Un primo tempo senza neanche un tiro. Capite bene che non è il massimo. Ecco. Per l'appunto. Bontà. Emmausso. Avanza. Emmausso ancora. Magri. Vanzan. Menna. Addirittura si appoggia dal portiere. Vediamo Di Francesco. Prende palla adesso il Taranto. Bravissimi ragazzi. Partiamo da Antonino. Per Benassai. Costruzione dal basso. Avanza Benassai. Che è il nostro Bonucci. Labriola. Per Giovinco. Il filtrante per Saraniti. Al volo. Non inquadra la porta. Porca. C'è miseria porca. Niente da fare. Niente da fare. Il Foggia addirittura 2 a 0. Ma questi sono imbattibili. Però che palle. Allora. Andiamo. Italeng. Proviamolo. Come mi avete detto voi. Come punta centrale. Poi. 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 Io direi. Santarpia per. Pacilli. E il buon. Dov'è? Falcone per Giovinco. Proviamo a cambiare. Il terzetto. Davanti. Per vedere se. Diamo una scossa. Bontà. Ancora. Il campo basso. Con Menna. Sadiku. Magri. Che fa un po' di. Che fa. Andiamo ragazzi. Eh. Bravo. Ferrara. Labriola. Per Falcone. Potrebbe. Eh. Peccato. C'era l'inserimento di Italeng. Non l'ha visto. Falcone ancora per Labriola. Diaby. Oh. La sblocca. Abubakar. Diaby. 1 a 0. Dalla distanza. Al 71esimo. Una partita. Di grande sofferenza. Proviamo a mettere anche. Belloc. Per Labriola. Sì. 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 Grande Marsilli. Che fa sempre delle prestazioni. Al di sopra. Della media. Magri. Attenzione. Però di Francesco. Che può avanzare. Bravissimo. Tommassini. Che la mette in faro laterale. 76. 78. 80. Certo. Sarebbe davvero una beffa andare a pareggiare adesso. Perché 0 tiri importano fatto un tiro totale. Ma invece il pareggio non arriva. Va bene. Minimo risultato. Massimo sforzo. Purtroppo abbiamo fatto. Perché con 15 tiri ci aspettavamo un po' di più. Per quanto riguarda la nostra venna realizzativa. Ma comunque. Sempre tre punti sono. L'importante era non perdere terreno nei confronti dei nostri acerrimi rivali del Foggia. Ripassiamo in testa una serie C davvero 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 impressionante per quanto riguarda la competitività. Perché abbiamo Taranto, Foggia e Catanzaro con il Palermo che ancora in realtà deve giocare a una partita in meno. Non giocherà contro il Monopoli. Qualora vincessero abbiamo uno, due, tre, quattro squadre in tre punti. Quindi capite bene che la cosa si fa abbastanza seria. Adesso ci avviamo verso la partita contro l'Avellino. Un'altra partita veramente tosta. I campani sono settimi. Siamo in trasferta e giocare al Partenio non è mai facile. Lo sappiamo benissimo. Ed eccoci arrivati alla partita a Vellino. Taranto. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Abbiamo perso contro il Palermo all'ultimo secondo. Abbiamo vinto proprio di misura contro il Campobasso. E adesso è arrivato il momento di andare a vincere contro l'Avellino. Se ce la facciamo. In trasferta, non sarà facile. La formazione è sempre quella classica. Sempre quella più affidabile. Andiamo. Vogliamo andare avanti. Vogliamo subito toglierci queste Serie C dalle palle. E così andare in Serie B dall'anno prossimo. Vai. Forza ragazzi, ci aspettiamo la vittoria. Dai, sei parte. Tomassini verso Marsilli. Tomassini per Pacilli. Subito il Taranto con convinzione. Orghe Silva, Marsilli, Tomassini, Diaby, Pacilli. Pacilli, 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 Pacilli. Ma chi è? Ma chi è Pacilli? È lui e non è lui. Certo che è lui. Pacilli. Bellissima. Guardate che slalom gigante. Ma chi è? Alberto Tomba? Guardate qua. Uno, due, via. E poi il destro all'angolino. Non può nulla. Il portiere che comunque ci prova. Vabbè. Ok. Uno a zero. Di Gaudio. Attenzione all'Avellino. Adesso il buon Maniero che però è Maniero. Quello ex Catania potrebbe essere. Orghe Silva si fa sempre a Moni tutte le partite. Punizione pericolosa. C'è Deli. Le mette dentro. E vabbè. E vabbè. Un altro gol. Oh, le punizioni sono sempre un must di Football Manager. Il Foggia sta giocando? No. Il Foggia non gioca. No. Ha già giocato in realtà. E ha vinto. Imbattibile sto Foggia. Solo noi siamo riusciti a batterli. Incredibile. Domandiamo di più. Otto tiri. Beh. L'Avellino sta meritando. È vero che sono poco prestanti sottoporta. Un tiro solo. Però è stato sufficiente. Diabì. Attenzione. Verso Tomassini. Marsili. Allarga per Labriola. Ancora Diabì. Tomassini. Non troviamo spazi. Potrebbe scendere. Invece niente. Ancora Diabì per Marsili. Marsili che può inventare Labriola per Saraniti. Bellissimo. Oh. È un intelligente che fa le sponde. Che fa i passaggi. Invece di tirare. A cazzo di cane. Bravo. Intelligenza tattica. Queste ragazzi. Queste. Marsili. Labriola. Guardate qua. Saraniti. La poteva tirare. Però ha visto Giovinco. Meglio posizionato. Gli ha passata. E dai. 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 Bravi ragazzi. Adesso il Taranto. Ritorna in testa. Davvero uno scontro impressionante. Tra le due pugliesi. Marsili ancora. Vediamo niente. E vabbè era difficile. Sul lato del portiere addirittura. Forte la mette in corner. Che va a battere. Il Palermo passa pure in vantaggio. Giovinco la mette in mezzo. Lontana Tossena. Ben assai. Ancora per niente da fare. Ok. Come l'ho detto. 5 tiri in porta per il Taranto. Stiamo giocando veramente bene. Ben fatto. Proprio quello che volevamo vedere. Però. Qualora riuscissimo a fare anche un bel 3 a 1. Tanto per metterci il risultato al sicuro. Non sarebbe male. Vai Marsili. Ancora per Tomassini. Diabì. Marsili. Orge Silva. Occhio che è già munito. Giustamente si affida ai piedi sapienti di Marsili. Antonino. Il rilancio lunghissimo. Saraniti non riesce. Aloy. Non sono un grande fan di questi lanci lunghi. Anche perché poi andiamo a perdere sempre palla. Attenzione. All'Avellino. Che può imbastire l'azione offensiva. Deli. C'è un buco incredibile. Poi meno male. Che la palla finisce altissima sopra la traversa. Diabì. Tomassini. Ancora all'indietro per Marsili. Diabì. Il filtrante bellissimo per Pacilli. Troppo lungo. Peccato. Forte. Fa suo il pallone. La rilancia. Lunghissima. Verso Di Gaudio. Orgesilva. Verso Mignanelli. Mastalli. Di Gaudio. Delli. E c'è sempre un buco incredibile da questa parte. Com'è possibile? Meno male che c'è Antonino. Che fa? Ci stiamo attenti in difesa, per favore. Allontaniamo da questo corner. Troppi buchi ci stanno in difesa. Il Palermo. 2-0. Va a raddoppiare. Addirittura un ricorre sbagliato. Comunque c'è Giovinco. Adesso vediamo se riusciamo ad ottenere il 3-1. Pacilli. Di sinistro. E poi c'è Saraniti che va a sfondare la porta. Eh mamma mia. Eh vabbè. Va bene. Ci sta. Ci sta. Una bella sconfitta contro il Palermo. Si può dire. Passatemi il termine. Bella sconfitta contro il Palermo. Perché ci poteva stare. In trasferta dal Barbera contro una squadra davvero forte. Addirittura presa all'ultimo secondo. Quindi era ormai un pareggio acquisito. Ma vabbè. Facciamo finta. E poi due belle vittorie contro due squadre davvero forti. Soprattutto questo contro l'Apellino. Anche se in realtà non abbiamo vinto ancora una mazza. Perché abbiamo un bel po' di minuti da giocare. Allora proviamo come detto ancora Italenga per Saraniti. Qui come centravanti. Poi vorrei provare Falcone per Giovinco e Pacilli per Sant'Arpia. O Sant'Arpia come cazzo non la si chiama. E il buon Franchino nostro per Diaby. Vai. Confermiamo. 20 minuti alla fine della partita. Ferrara. Falcone può avanzare. Bello fresco. E bello fresco si deve fermare. Però sbraccia verso Ferrara ancora. Marsili per Ferrara. Ancora per Marsili. Centralmente c'è Franchino per Italeng. Che fa rimpiangere effettivamente. Fa rimpiangere Saraniti perché si fa parare. È un uno contro uno. Marsili. Il corner. In mezzo. Allontana. Niente. Finisce sopra la traversa. Ancora il Taranto. che però vuole chiudere definitivamente il match. Andando alla ricerca del quarto gol. Tomassini verso Sant'Arpia. Ancora per Tomassini che può avanzare sull'auto di destra. Si deve fermare Franchino nostro verso Sant'Arpia. Ancora per Tomassini. Ha un po' di spazio. Potrebbe metterlo in mezzo. Può provare il cross. Eccolo. Arriva. C'è addirittura trattenuta su Sant'Arpia. Calcio di rigore. che va a battere Luigi Falcone. Il nostro numero 10. Va Luigi. Luigi. 4-1. Tanto cercato. Tanto voluto. E alla fine è arrivato. E c'è stava ragazzi. C'è stava. Dai. C'è stava. Falcone. Bravo. Bravo. Aveva intuito. Forte. 4-1. Torniamo. Mamma mia. Un pubblico proprio scatenato. Mi stanno rompendo un timpano. Marsiglia. Ancora il Taranto. Alla ricerca addirittura del quinto gol. Italeng. Troppo lunga. Troppo lunga. Peccato. Italeng non ci arriva. Forte. Il rilancio lunghissimo. Tomassini ancora per Franchino. Franchino. La prova. Poteva effettuare un bel filtrante. Ma niente da fare. Ancora un'azione. Forte. Sempre. Il rilancio lungo. La palla arriva addirittura all'altro portiere. Antonino. Costruzione dal basso. Ben assai. Il filtrante per Italeng. Ma arriva all'altro portiere ancora una volta. Se stanno a passare a fare portieri sta palla. Vabbè. Ciancio. D'Angelo. Maniero. Maniero. In mezzo. Flescia. Mignanelli. Mignanelli. Carriero. In mezzo. Eh vabbè. Eh vabbè. Eh vabbè. Rimessa da fondo. Rimessa dal fondo. Va a controllare bene Antonino. Ottantesimo minuto. Dieci tiri in porta per il Taranto. Sedici totali. Davvero una... Una squadra a trazione offensiva. E quando attacca, ragazzi, non ci so cazzi. Mi dispiace dirlo. Attenzione però. Eh vabbè. Oh amicovci. Eh come ti chiami. Eh. Vabbè ha provato la giocata. Ci poteva stare. Ci poteva stare. 92, 93, 94. Grandi, grandi ragazzi. Bravi. Mani in tasca. Eccezionale. Nessuno ci dava una minima speranza. In realtà non è vero. Perché? Però. Tanto per fargli credere che tutto era... Ah, arriva il Bari addirittura. Forse, ditemi voi Pugliesi. Il Bari credo che sia il derby principe. Eh, del... Eh, dei derby Pugliesi. Taranto-Bari. O forse Barilecce. Non lo so. Vabbè, fatemi sapere voi. Che siete sicuramente più esperti. E più abbezzi. Quindi, allora, intanto, il Taranto va ad assaporare la prima sconfitta della stagione contro il Palermo. Però poi trova due vittorie importanti. Il Foggia non molla, così come non molla il Palermo. Ha mollato un po' il Catanzaro, che resta indietro adesso di 6 punti. Mentre Palermo resta a meno 3. Eh, il Foggia è in... A pari merito. Con il grande Davies Curiale, il capo canoniere, mazza sta foto. E forse di quando aveva 18 anni, credo. Un po' antiche come foto. Vabbè, infatti, ancora la maglia del Frosinone, addirittura. Vabbè, 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 Vabbè. Pacilli, 6 gol. Addirittura. Jovinco, 6 gol. Quindi abbiamo due giocatori che sono dietro il capo canoniere del campionato. Labriola è il primo Labriola, anche a livello di assi, si chiama Dalmice Vitteriti. Insomma, stiamo andando molto bene. È inutile dirlo. Il prossimo episodio abbiamo Bari, Monterosi e Messina. Messina, Bari, Monterosi e Messina. Il Bari è al quinto posto. Una partita che, oltre la difficoltà in sé, ha anche poi l'importanza della rivalità sportiva. Il Messina è 14esimo, 15 punti. E il Monterosi è a 7 punti al penultimo posto. Va bene, ragazzi. Fatemi sapere la vostra, come sempre, qua sotto nei commenti. Ti ripeto, questa stagione cercheremo di farla andare più in fretta possibile, più liscia possibile, per poi tuffarci nel magico mondo delle Serie B, dove possiamo andare a fare il nostro mercato, avere i nostri giocatori, perché qua comunque tanti giocatori abbiamo già trovato, ovviamente, figli del passato e del mercato scorso. Quindi, detto questo, un bel like, un'ottimità in iscrizione per supportare il canale. Io, come sempre, vi voglio bene. Noi ci vediamo con una fantastica nuova emozione il prossimo episodio. Ciao!